Prima di iniziare a fare i record avevo pochi clienti, dopo aver iniziato a fare i record e la clientela ho pensato a molto. La pubblicità è l'anima del commercio, quindi vogliono tutti con loro che rialza. Io penso che il nostro pubblico ha chiedito di cosa si tratta, perché abbiamo visto l'ingresso di un boom a costruzione del nostro pubblico, dicevo, ma come sei da solo a me?